Ragazzi, ragazzi, eccoci qua su Dragon Age Origins, proseguiamo da dove ci eravamo lasciati, ma facciamo insieme un recapino, poiché non mi ricordo qualcosa ma non nel dettaglio. Allora, siamo arrivati all'Odering, che era un crocevia, se non ricordo male, banditi sulla strada, occupati dei banditi che derubano i viandanti, i banditi hanno eretto una barricata lungo la strada per l'Odering, rapinando i viandanti e costringendogli a pagare un dazio, è rivelato di essere un custode grigio e i banditi, timorosi di affrontarti, ti hanno lasciato passare, sì ma per risolvere questa questione forse dobbiamo ammazzarli e basta. Il templare è caduto, hai trovato il corpo di un templare, hai ucciso dei banditi, che era questo qua in fianco, mi pare. È stato spogliato di tutto quanto, tranne per una nota e un medaglione, forse il medaglione significherà qualcosa per qualcuno a l'Odering. Ok, poi abbiamo il flagello, queste praticamente sono le missioni principali, reclutare, chiedere un'alleanza forse con Arl Imon, aiuto di Orzamar, cooperazione degli elfi, aiuto dei maghi e riposa e fare i fornimenti. Sei arrivato a Lodding dove potrai riposare e fare i fornimenti. Oltre al villaggio si snoda la Gran Via Imperiale, la strada che attraversa tutto il Feredde. La Gran Via ti porterà nei diversi luoghi che dovrai visitare. Reddcliffe, la foresta, ok, è contenuto premio. Ma passo di Sulker, forse essendo una specie di espansione, bisognerebbe aspettare, mi sa, prima di poterla fare. Dunque, ma, capo dei banditi, se io ci parlo... Eh sì, ma... ah, ecco, esatto, esatto. Ah, e... vediamo se ci riesco, perché, come dissi all'inizio di questa serie, per il momento pubblicherò un episodio a settimana, magari facendolo anche un po' più lungo, anche un'ora e mezza, anche due, ma vediamo, vediamo se da questo episodio in poi magari riesco a pubblicarvene un paio, vediamo, un paio a settimana. Allora, che mette idea? Vi toglierò di mezzo. Io andrei su... intimidire, ora tu e i tuoi uomini dovete andarvene. Ah, shame you feel that way. We're not inclined to give up our spot just yet. Right, gents? Not me. These refugee types are ripe for the picking. Shall we settle our difference of opinion now then? All the noise and father... Quindi alla fine... Ok, dovevamo appunto ammazzarli per risolvere il problema. Allora... Morrigan è qua, io direi... Non l'avevo attivata la cosa delle armi gelide, mi pare di sì. Forma di ragno... Vai, vai in forma di ragno, dai. Noi andiamo... Attacchiamo il capo, magari. Che bordello però. I combattimenti sono veramente... Ok... Seda, eh. Se raccavano... Vedo che sarà... Mi sa che siamo noi quelli che stiamo venendo più massacrati. Vediamo se resistiamo. Se resistiamo, magari possiamo curarci un attimo. Oh, mi ha stordito. Aspetta. Curati un po' di pino. Oh... Questo. Ok. 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 Avete scelto il bersaglio sbagliato? Guadagnarvi da vivere? Tu sei un criminale. Questa meschina operazione è patetica, potrei fare molto di meglio. Io direi la seconda. Tu sei un criminale. Sì, sono un criminale. Admetto. Mi scelto. Mi scelto. Ora morirete e non mi meditate altro. Voglio delle risposte ad alcune domande. Vi consegnerò l'autorità. Voi verrete con me. Mi farebbe comodo un po' di soldati. Datemi tutto quello che avete rubato. Cominciate a correre e non tornate mai più. Non lo so. Non so se anche... Probabilmente sì, eh. Anche se non ne sono sicuro al 100%. Cioè, anche come in Baldus Gate 3, quello che facciamo agli altri, ovviamente influisce anche sull'approvazione o meno dei miei compagni. Compagni. Quindi... Insomma, noi siamo... Dai, voglio comunque fare per lo più l'eroe in generale. Magari delle volte ci vado, andrò giù pesante. Tipo, ora morirete. Non mi meditate altro. Cioè, fare l'implacabile. Ma proviamo a dirgli... Dai, vi consegnerò l'autorità. Non c'è nessuno! Solo i templari, e loro mi eseguiranno. Ah. Ma, vabbè. Allora ti giustizierò, io seduto a stante. Voglio dire... Eh, ma cosa ci potrà mai dire lui? Vediamo, voglio dire risposta ad alcune domande. Ma cosa potrei dire? Non siamo anche da queste parti. Perfetto. Cosa avete fatto di preciso? Cosa sta succedendo a Lodrin? Sai se si può riuscire a qualcuno dalla battaglia? Che notizie... Che notizie hai sentito? Tutti dice che i Grey Wardens hanno portato il King durante la combattia di Darkspawn. L'hanno e loro si è morti. Tern Loghain ha portato in tempo. La prima cosa che sta facendo come regent è mettere una bonti su Grey Wardens. Cosa avete fatto di preciso? Eh, non mi sembra comunque. Cosa sta succedendo a Lodrin? Se avessi sopravvissuto qualcuno alla battaglia? Non ho altre domande. Immaginavo che potremmo comunque scegliere di finirlo. E se... Esatto. Voi verrete con me mi farebbe comodo un po' di soldati. Non so se poi potranno veramente tornare ultimo se è possibile veramente reclutare loro. Dai, voi verrete con me mi farebbero comodo un po' di soldati. Altrimenti puoi morire a te la scelta. Eh, sì altrimenti puoi morire a te la scelta. Ah, quindi comunque vabbè alla fine allora tanti saluti. Eh beh è morto praticamente tanti saluti. Niente, tanti saluti. Niente, tanti saluti. Niente, tanti saluti. Niente, tanti saluti. Eh. Ecco. Così. Oh, dove va? Ah. Ottimo. Niente alla fine ha scelto di morire quindi dopo i stati sconfitti da te i banditi sono arrazi tuttavia dovevano pagare per i loro crimini perciò li ha uccisi tutti. Ho fatto da giudice giuria e boia no, gli altri non so se ah bandito pietra vitale queste pietre esistevano in prossimità di vene di lirium e pertanto ne hanno assorbito alcune caratteristiche le pietre della vita abilitano molte proprietà naturali dell'artigianato infrangendo una pietra vitale il personaggio ottiene un bonus resistenza alla natura per un bel periodo di tempo va bene pronto soccorso questo più uno volontà prendi tutto ehm l'inventario può vedere che l'inventario diventerà un casino mano a mano che si andrà avanti questa no è 38 forza devo potenziare la forza e i miei compagni a lei l'anello non ce l'ha perlomeno uno e allora le do ah non le ho dato si dice che ero stanco senza mentale forse è meglio dargli più un'armatura va no ah no ah no questo è un ciondolo scusate ah questo è una cintura e allora non me ne ero accorto ah io la cintura ho questo più tre astuze ah più tre astuze mi dà sta cintura più 500 probabilità di schivare gli attacchi sì allora tengo questo come al solito prima vengo io eh sì e poi vengono i miei compagni io però proteggerei di più Morrigan perché lei mi sa che non ha tantissima difesa infatti 53 56 ah io 50 pensavo di averne di più 50 più 0 ah 52 più 4 ah l'istere vabbè e allora dove è la cintura ah però dà più resistenza questo sì dai sì dai la resistenza va bene è comunque una difesa eeeh ah dove è il collare più 2 costituzione va bene per quanto riguarda l'armatura eh sì io le ho rimesso questa qui tunica da più 2 magia più 10% danni da freddo in effetti potrei tenere quella eh sì ha comunque dei bonus che fanno in combo con lei quindi va bene e le cure eh me le tengo io le cure per ora poi vediamo dai anche perché io sono quello che attira gli altri che fa il tank quindi ok interruttura della trappola vabbè prendi tutto allora prendo prendo e basta dovrei avere un guaritore nel gruppo eh mi sarebbe utile che che l'arri lo lo pretty as a painting ah so you have finally decided to rejoin us have you falling on your blade in grief seemed like too much trouble I take it is my being upset so hard to understand have you never lost someone important to you just what would you do if your mother died before or after I stopped laughing right very creepy forget I asked di cosa volevate parlare Alistair Dobbiamo sentire notizie recenti prima di poter decidere? Avete pensato qualcosa al riguardo Alistair? Dovremmo cercare di utilizzare questi trattati immagino Direi la terza, dobbiamo sentire notizie recenti prima di poter decidere Ma dobbiamo decidere qual è il nostro plan generale per dopo, non? Credo che cosa Flemeth ha suggerito è la migliore idea Questi trattati, li hai guardato? No, non ancora Ci sono tre gruppi principali che abbiamo trattati per I Daelish Elves, i Dwarves di Orzammar e il Circo di Major E' la missione E' anche credo che Arliman è la nostra migliore proposta per aiutare Possiamo anche volerlo prima In tal caso dobbiamo cercare queste persone C'è modo di contattare i custodi grigi? Mi sa che no Avevamo parlato in merito all'accampamento Perchè lasciate che decida io? Perchè lasci... Cioè in automatico... Vabbè che siamo i protagonisti quindi In automatico ci fanno il capo però Perchè lasciate che decida io? Vabbè... Eeeh... Chiediamo a Morrigan Cosa credi che dovremmo fare Morrigan? Go after your enemy directly Find this man Logain and kill him The rest of this business with the treaties can then be done in safety Yes, he certainly wouldn't see that coming And it's not like he has the advantage of an army and experience and... I was asked for my opinion and I gave it If your wish is to come up with reasons why something cannot be done We will stand here until the darkspawn are upon us Eh no, non è una buona idea quella di Morrigan comunque Prima cercherei alleati e poi andrei direttamente dal nemico, no? In tal caso dobbiamo cercare queste persone dai I can give you directions if you like Vabbè... Chiediamogli tutto Anche se abbiamo il menu delle missioni Ma fa niente Dove possiamo trovare Arlimon? He'll be at the castle Redcliff In the far western part of Ferelden Next to the mountain passes If he isn't there Someone will be able to tell us where he is Dove potremmo cercare Gheffi Dalish? If we head eastward Towards the Brazilian forest We should hear word of one of the clans That wanders that area Hopefully they will still be there Eh... Sono stato esiliato da Orza Ma non posso tornare laggiù You're going to have to I certainly wouldn't want to go there alone Why? Would it frighten you? Are you afraid of dark and sunken places? I mean we won't have any choice You'll be there under Grey Warden business And the dwarves will just have to see reason They certainly are renowned for an abundance of reason It is true Eh... Come facciamo ad arrivare ad Orza, ma da qui esattamente? You don't know where Orza Ma is? He doesn't know how to find it on the surface, fool He has never been here before If you follow the west road around Cullenhard Lake Into the mountains through Gerlands Pass From there I expect you know the way Dove possiamo trovare il circolo dei maghi? That would be at their tower on Lake Cullenhard to the north We'll be looking for the first Enchanter Whoever that is Dove sarà Logain esattamente? If he isn't out in the field with his army He's probably going to be at the palace in Denerum We can go to Denerum, but somehow I suspect That they're not going to let us just walk around Only a suspicion, of course Then you have a plan Eh... Sono pronto ad andare, dai Beh... Chiediamo io stesso, ma... So già la risposta C'è modo di contattare i custodi grigi? ... Ecco Sono pronto ad andare Che ha salvato Ehm... Nessuno è salito di livello E vediamo Rifugiato, rifugiato, ragazza rifugiata Ma posso parlare così o... Ho risolto io, signora, si preoccupa Vediamo se c'è un no C'è un no, Alistar, se ti farà mi Hai una scelta? Di due di voi che resta, non sei il signore Grey Warden qui? Penso curioso che ti permette di un altro a guidare mentre ti seguisci Hai trovato curioso, non? In realtà, ti chiedi a un nuovo recruit Questo è la polizia dei Grey Wardens, o solo un personale? Che vuoi che ti chiedi? Che preferisco seguire? Eh, probabilmente è insicuro Alistar, quanti di pelle... Prendo tutto e poi vendo Ovviamente Ovviamente Appena trovo un mercante Ragazzo rifugiato, rifugiato, rifugiato Prendi, prendi Ecco, la telecamera non è che posso muovermi tantissimo oltre la mia visuale eh Molto meno che in Baldur's Gate Contadino, questo dice qualcosa Ah Ah, lui è un commerciante Ehm Non sono un mercante, ma un custode grigio Ehm I custodi grigi non hanno fatto nulla del genere Alcune domande Alcune domande Cosa succede qui? Che è il capo di questo villaggio? Che è il capo di questo villaggio? Sir Bryant Sir Bryant Non avete un signore al governo? Ha venuto a guerra e ha preso tutti i soldati, lasciandoci la sfida per noi Non ci sarà più di più quando si ritorna E se si ritorna Quei banditi hanno sempre stati fuori dal villaggio Ehm Si, li ho scacciati Definitivamente Va bene Va bene Ok Rifugiato Ok Lo dice Elfio Prendi, prendi Templare Sentiamo cosa dice Cosa intendete dire? Cosa intendete dire? Abbiamo avuto i rifugiati che si trattano dal sud per i ultimi due giorni La Chantry e la taverna sono fredda a rinforzare Non c'è abbastanza di mangiare E noi Templari non possiamo non prendere ordine Ehm Posso farvi alcune domande Vabbè Vabbè Ma toglietevi di mezzo, no? C'è qualcuno che comanda in questo posto? Il band ha marchato il nord con Terran Loghain Quindi Lothering è proprio La maggior parte si guarda di Elfio Miriam Inoltre potrebbe parlare con Sir Bryant in la Chantry, credo E' a te Allora Ce l'hanno già detto che Sir... Cosa? Ah, guarda come si trattano e si trattano e si trattano i denti E' triste di guardare come semplicemente si trattano Mercante, quello che cercavo Non c'è Ho il diritto di pagare ciò che voglio. Tu profite dalla loro fortuna. Devo avere i templi di guardare tutto in vostro cartone. Non potresti dare. Qualcuno di voi stanno troppo vicino ai miei buoni e io... E' così bello vedere tutti lavorando insieme in una crisi. Si riempia l'esercito. Oh, tu lì. Tu sei capito. Vuoi fare un piccolo profito aiutare un buon negozio? Potremmo volervi aiutare. Aumentate il qualcosina e ci penserò. Il vostro esercizio commerciale sta creando un po' di scompiglio. Eh, il vostro esercizio commerciale sta creando un po' di scompiglio. Poi potresti dire questo, sì. Il nervo di queste persone. Lì sta pagando i prezzi di terra. Per cose che le persone necessitano. Il loro sangue è riempio. Il loro sangue è riempio. Il loro sangue è riempio. Tutti questi cretini dovrebbero fare lo stesso nelle scompigli. Dice la possibilità. Ho dei servizi limiti. Le persone decidono che queste servizi servono a loro. Tu hai comprato la maggior parte dei vostri vestiti da queste persone l'ultima settimana. Ora si scavano per le loro vidi. E tu vuoi parlare del negozio? Guarda. Stranger. Ho 100 silversi. Se ti riempi questo rabble off, iniziando con questo priest. Sono un mercato honesto. Niente più. Guarda. Mi pare che ho un po' di soldi. Dovei guardare, ma... Ehm... Non mi interessa. Volete fare un'offerta migliore, sorella. Concordo. Chi di voi non è qui per far affai se ne vada subito. Eh, non credete di mancare di scrupoli. Se avessi aiutare questi ragazzi, se potessero compiare i vostri soldi? Si spendono il loro ultimo coin, perché sono desideri. E questo padre prese su loro, sicuramente come i banditti fuori della città. Ah! Non sto parlando più. Passate questa ragazza e prendete i vostri 100 silversi. Inoltre prendo la mia macchina e parto. Io volevo un commerciale. Avete dato di voi? Ho l'ora di andare. Credo che possiate scendere a un compromesso e guadagnarci comunque, no? Intimidire. Abbassate i prezzi o perderete la vostra merce. Io andrei di persuasione. Credo che possiate scendere a un compromesso e guadagnarci comunque, no? Probabilmente. Se quella moglie si accende, mi permette di guadagnarci qualcosa. Fai ciò che devi. Tanto che i prezzi siano migliori i prezzi siano necessari. Bene, bene. 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 E se tu non sembri troppo necessari, i prezzi normali sono per te. Quindi, abbiamo venuto a risolvere ogni squabble nel villaggio, personalmente. Ma il Darkspawn sarà impressionato. Grazie per la vostra generosa assistenza. Poi il Maker guarda il tuo passaggio. Ah, abbiamo risolto. Ah, però Morrigan si disappro... Ah, quindi ok. Ok. Stessa funzione di Baldus Gay. Delle volte... Non ne ero sicuro, ma era logico pensarlo. Delle volte, a seconda di quello che facciamo, uno potrebbe approvare o disapprovare. Beh, Morrigan è più pragmatica. Quindi, sì. Decisamente. Ah, questo qua il baule è chiuso. Non posso aprirlo. Però... Veramente... Vediamo cosa avete. Allora, beh, noi abbiamo... Un bel po' di soldi, eh. Allora... Intanto... Cosa posso vendere? Questo lo posso vendere. Lo Spadone... Spadone... Sì... Spadone è a due mani. Sì... Bello uno... Perché comunque Alistair... Serve una mano perché dall'altra c'è lo scudo. Quindi, ok. Sì, dai, lo vendo. Eccellente è la mananica. Spada lunga mano principale. Questa forse potevo metterla da Alistair, no? Eh, vabbè, poi vediamo. No, Spadalunga del custode... Ah, è uguale. È uguale, sì. Allora vendo questa, dai. E Spadalunga. Vendo, ok. Arcolungo lo teniamo... Arcolungo della parola oscura mi sembra più una balestra. Però meno uno destrezza. Dardo è per la balestra e frecce per l'arco. Eh... Bastone magico, ma... Orrigan ha il suo, vero? Bastone della parola oscura. Dai, questo lo... Lo vendo. Sì. Le frecce le tengo. Io invece i dardi... Ah, va sulla forza. La balestra. Invece l'arco su destrezza. Ma per ora... Atteniamoli, però non lo so. Allora. Beh... Io ero a posto. Mi pare. Ah, però questo vedi, dovrei equipaggiarlo, in teoria. Eh, mi devo rivedere un attimo. Però vediamo se... Vediamo lui cos'ha. Ascia da guerra nanica. Adesso io ho lo spadone e... Devo puntare su... Sugli spadoni, ovviamente. O sul maglio. Maglio... Ah, è peggio. È comunque peggio. Bastone dell'incantatore. La madonna. Ah, però cos'è che dà? Più no magia. Resistenza spirituale. Lani da fog. Freddo elettricità. Penetrazione armatura 20. Ma quello che ha 23. E colpisce da più lontano. È un pochino più lontano. Va bene. Qua non ne ha niente. Eh, magari però ecco, questi li compro. Tutte e due. Acquista. Pronto soccorso minore. Bomba incendiaria. Poche cure. Non ne ha praticamente già più. Questa è roba... Ok. Per l'alchimia. E riacquisto. Va bene. Va bene dai. Qualcosina l'ho preso. E no, dovrei a sto punto se... Allora, guanti di pelle... Eh, questi sono meglio. Ok. Quindi questi li posso vendere. Anzi, comunque questi sono meglio. Guanti di cotta di maglia. Eh. Stivali. Ah, gli stivali difficilmente. Mi sa che troverò qualcosa di meglio per un po', eh. Anche l'armatura. L'armatura di cuoio. Cotta di maglia. Eh, sì. Sì. Lo scuro non lo uso. Alistair fa vedere. 0,90. Quanti di pe... Cappaggiato è meglio. Questo è meglio. Armatura... Meglio. Eh, ma io la vendo dai. Poi non posso aspettare... Che arrivi qualcuno. Insomma. Morrigani. Sì, li potrei mettere. Ma... A parte che... Quello che ha è meglio. Stivali. Quelli che ha danno più 6 difesa. Quindi io li... Renuncerei. Qua, certo. Le darei più difesa. Ma... Renuncerei al bonus magico. Quindi magari no. Lo scudo non lo usa. Sì, dai. Così. A me non so cosa vendere. Sì, ma... Quindi allora vendiamo praticamente tutto ciò che riguarda l'armatura. Tranne... Queste qua. Queste qua. Ehm... Ah, e questo scudo dai. Quindi questo via. Questo via. Questo via. Questo via. Via. E via. Ok, ci teniamo questi. E anche la spada... Ah, giusto. Devo vedere. Fammi vedere. Fammi vedere. Fammi vedere. Aspetta. Kona. Alistair. Dagli questo. Ah, sì. Vedi. E allora sì. Sì, sì. Diamogli la spada. Pugnale magari lo vendiamo. Ma arma secondaria? No. Intanto non lo userò. Se lo tengo in squadra non lo userò mai come arciere. Anche se... No. Delle abilità non so. Non credo le abbia. Però... Ehm... Ah, comunque un arco eventualmente ce l'ho. Per un futuro arciere nel gruppo. 24 destrezza però. Mmm. Poi io come al solito preferisco più l'arco che la balestra, eh. E la balestra... Allora sì, dai. Aspetta. Riparliamoci. Ok. Ok. Vabbè, il pugnale... Sì, lo vendiamo. Allora dai, io la balestra la vendo. Non fa niente, dai. Questa coi dardi. Ok. Tengo solo l'arco. Ah, così siamo pieni a metà. Vabbè, a metà va bene. Sai, sai. Tutta sta roba che peserà, immagino. Ah, a parte che è vero... Ehm... Aspetta. Devo vendere... No. Tipo... Ma questo è un... I doni non li vendo. Questo però si può vendere. Anche questo. 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 Vaso elegante. Sembra costoso. Pergamene... Pergamene in bianco teniamo. Non so. I doni li teniamo. Il resto lo teniamo. Le varie pozioni le teniamo. Ok. Anche sta roba pesa. Scusa. Non lo dici. Ok. Va bene. Oh dai, ci siamo liberati di un peso. Ok. Quindi ora... Qua c'è una bacchica. Bacchica del cantore. Sentiamo lui. Scusa. Salute. Voi chi sareste di preciso? E voi chi sareste di preciso? Scusa. 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 Sette di poche parole, è vero? Ehi, vi ho fatto una domanda. Scusa. Scusa. Eeeh, ha qualche rotella fuori posto. Che cos'è un cantore? Quindi se volessi ricoprire di paglia un tetto devo parlare con lui. Quindi è una specie di voto del silenzio, non può parlare normalmente. Il cantore non è una cosa che mi rispondete. Vabbè, no, diciamo, c'è qualcosa di interessante nella baccheca. E fammela vedere, va. I banditi sono numerosi e discretamente abili. Solo un gruppo ben armato e addestrato dovrebbe inoltrarsi nei boschi. Preghiamo per il successo di chiunque intraprenda questa missione. Gli abitanti e i viandanti confermano l'esistenza di tre gruppi di banditi nei boschi settentrionali. Questo umile cantore sottolinea l'avvertimento di Sir Bryant, a meno che non vogliate divenire altre vittime di questi uomini malvagi. La ricompensa per un tale servigio è di tre sovrane. Che sarà? Che il cantore vegli sui suoi figli. Allora il bisogno ve l'accetta. Ok. Le numerose organizzazioni del Ferelden tengono baccheche degli annunci di lavoro come questo. Una volta completato un incarico, parla con il rappresentante dell'organizzazione per riscuotere la tua ricompensa. Parla a nord, però. Quelli che ho ammazzato prima, secondo me, è un'altra missione. Prendi tutto. Grande scudo di legno. Prendi tutto. Vediamo. No, qui. Peggio. Questo non si può usare, 22 di forza. Questo infatti lo teniamo. Che poi questo qua era mica quello che abbiamo trovato. No, forse era un altro. Vabbè. Comunque. Questo diceva qualcosa, mi sembrava. Hai visto la mia madre? Sparisce. Dipende. Chi è tua madre? Sai dove è tuo padre? Vieni con me, ti ritorno a cercare, vediamo. La mia madre ha detto che non volevo andare con nessuno. Mi sembra di aspettare per lei qui, nella città. Sì, vai nella chiesa, piccolo. Qualcuno si occuperà di te. Tieni, prendi questa moneta del argento, compra di cose da mangiare. Non credo che arriverà, piccolo. Ah, io dico, vai nella chiesa, qualcuno si occuperà di te. Sì, ma solo se non trovo la mia madre prima. Eh, sì, perché me lo chiedi? Il padre dice che i wolfs sono davvero gredi, ma non sei davvero gredi. Grazie per aiutarti. Ah, vabbè. Nessuno approva, disapprova, vabbè. Ok, ma io parlerei... Predicatore... Contadino arrabbiato, templare, ragazza rifugiata, ser Maron. You're king is dead! Illegioni of evil are on your doorstep. They will feast upon our hearts. There is nowhere to run. This evil will cover the world like a plague of locusts. Please, you're scaring the children. Better to slit their throats now than let them suffer at darkspawn hands. They're, one of their minions is already amongst us. Ehm... Ehm... Non è intenzione di far tacere questo folle... Attento a dove lanciate le vostre accuse... Sciocco... Ehm... Io direi la terza... Nessuno ha intenzione di far tacere questo folle... Sei il mio giusto, non ho l'esercizio di provare l'acqua di lui Ho guardato il Black Horde descendere sui miei persone D'Arctis ha sbagliato la scuola di marcia Questo Minion è solo il primo di quelli che ci distrutturano Poveretto, cosa vi è successo? Non dite assurdità, la parola oscura può essere sconfitta Andarvene in giro a gridare non vi salverà di certo Non c'è nulla a fare, non c'è più speranza Sono secoli che noi nani respingiamo la parola oscura Ditemi, quando fuggite siete più o meno rapido di un coniglio Vabbè, sono secoli che noi nani respingiamo la parola oscura Timidire, conosco dei cani con più spina dorsale di voi Mi sto dando degli idioti Fermatevi ad ascoltarvi per un istante Eh, dai, persuasione Eh, dai, persuasione Ho... ho scusato i miei ancestri Ma la scuola avrà avuto Era certo, non c'era? Non c'è speranza per noi C'è sempre speranza, fatevi coraggio C'è sempre speranza, fatevi coraggio Tu sei certo Non possiamo perdere Ma non possiamo combattere Che dovremmo fare? Non possiamo dormire e morire Dobbiamo andare a nord per Denerim Persuasivo Ma... Ah, ok, per un attimo la voce... Eh, se ne sono andate, ok Vabbè, ovviamente finché possiamo andremo di persuasione Poi, non avendo scelto quel sentiero Ma puntando più sul combattimento Comunque sulla... Sulla forza È ovvio che prima o poi la persuasione non funzionerà più Ma va bene così Prendi Templare Eh, questi chasings... Non riesco a capire bene la differenza Sarà da come sono vestiti, forse Vediamo se per caso Cultura e storia Non so Cioè, sono una tribù, se non ho capito male No Qui niente Magia e religione Personaggi Note Comandi Ma non... No, la calma Ok No Creature No, creature sono... Devono essere nemici Infatti Ma forse è qui Però per ora non abbiamo ancora sbloccato niente In merito a... In Chainsid O come si pronunciano Vabbè Cioè, mi sembrano umani normali così Sono solo vestiti in maniera... Con una particolare armatura, però... Oh Fuggiato qua Ser Maron Ehm... Siete chiusi? Vi sembra un profugo Ehm... Siete chiusi? Vi sembra un profugo Ehm... Siete chiusi? Ehm... Sapevate che c'erano dei banditi sulla Gran Via? Eh, sto cercando lui, però... Chi è il capo di questa chiesa? E dove ho detto? Vabbè... Avete sentito qualche novità? Vabbè, addio Quindi non... Ah, sì che posso vedere... Chiesa? Ma sarà qua dentro Mappa Fa vedere mappa La bacheca del cantore Al... Al... Ellison La bacheca Chantry Mi sa che... Chiesa Mercante Eh, forse... Ah, qua c'è qualcos'altro Wide open walk Allora, con... Le mod che ho messo Per lo più Il gioco è rimasto in italiano Però qualcosa... Qualcosa no Ok, vabbè Ma prima di entrare nella chiesa Ah, qui Macerie Quarzo Prendi Questa è la cosa con te e lui, comunque? Devo chiedere? Lui? 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 Si Io sono... Lui? Lui giù iessi Lui? Ehm... Ilona Non c'è nulla, non c'è nulla, non c'è nulla. Quelle blushing cheeks of yours tell a different tale. Quelle blushing cheeks are terrified that you'll suck all the blood out of them once you're finished with them. Se mi senti la need to suck on anything of yours, Alistair, you'll be the first to know. That was so not what I meant. Perhaps we should go and tell him together about your touching concerns. Perhaps you'll pay more attention to you if you ask nicely. Uh-huh, I think we're done here. Done before you started, in fact. Eh, forse qualche doppio senso, non so. Vabbè. Comunque ero presente, non so se se ne sono accorti. Vabbè. Prendi... Chi è Ellison? Vediamo. Hello, stranger. I... Don't suppose you know anyone that can make traps? Eh... E cosa vi servono delle trappole? Old man Barlin ha detto che... Darkspawn potrebbe venire presto. He's got traps on his farm. I figured... I'd put a few on my land. Barlin wants to... Poison his traps. I just want... Normal traps. Eh... Non posso aiutare. Especialmente non so realizzare le trappole. Barlin ha messo delle trappole velenose sulla sua terra. Eh... Perché non ne comprate? O se non ha soldi. Eh... Perché non ne comprate? None to be had. Barlin has all the traps in the village in his fields. Eh... Barlin ha messo delle trappole velenose sulla sua terra. Ah... He doesn't have any poison yet, thank the maker. So his fields are just full of traps. He can be a bit... eccentric. Vabbè... E' spiacente non so realizzare le trappole. Eh... Ma in futuro for... Cioè... Forse trovo qualcun altro, no? Vediamo se... L'Uthering non ha più sedi per i religi. Ah... Quindi ho... Ma poi ho segato la missione così? Cioè se eravamo un ladro... Potevamo farla. Ah... Quindi non c'entra magari il fatto che... Non lo so... Per esempio... Fa vedere una cosa. No? Ma comunque mi sa che anche se seleziono... Un altro mio compagno... Sono io che... Che parlo. Fa vedere. Vediamo. Sia Namiria. Si vedi? Comunque sono io che parlo. Non è come in Baldur's Gate. Ok. Eh... A dire il vero... Speravo più di aiutare voi. Non ho bisogno di blu... Ora ora. Ne ho bisogno di sedi... Cibo... E un finito a tutti questi... Sbagliati. Non credo che... Vedi nulla cosa... Di tonico, medicina o herbe. Io no... Ma ho con me una persona più esperta. Ecco. Vedi? Ok. Ok. Eh... Questo. Anzi. Mi ha chiesto di sfruttare la tua abilità... Con le herbe... Per creare degli impiastri curativi minori... Per i rifugiati feriti di Lodi. Tre impiastri dovrebbero bastare. Ma... Impiastri curativi ce li ho già. Eh scusa. Ne ho sette. Se ne do tre... A lei. Va bene uguale. Scusa. Va bene lo stesso. Non ne ho avuto bisogno. Ecco... Eh infatti. Ecco voi. Eh. A posto. Missione completata. Missione rapidissima. Ah baule ma... No. Ok. Qua c'è un altro... Ah ecco qua. Qua c'è un altro... Ah ecco qua. Eh no. Questo però... Questo lo voglio leggere. Come ho detto. Magari delle note. Delle cose. Quei qua e la. Comunque li leggo anche... Per me. Sia per voi che per me. Perché delle cose... Non mi erano chiare. Neanche la prima volta. Allora. I selvaggi Chasing. Hanno vissuto nelle serve corcare. Fin da quando le prime guerre. Contro gli Alamari. Gli spinsero a sud. Mille anni fa. Secondo la loro tradizione. Essi hanno sempre vissuto nella foresta. E sono sempre stati in grado di adattarsi rapidamente alla loro nuova casa. La selvaggina e il pesce non mancavano nelle terre praudose. Dove i Chasing prosperarono. Per un certo periodo di tempo. Loro e gli Avar. Abitanti delle colline. Costituirono vere e proprie minacce per i bassopiani settentrionali. L'impero Tevinte era la sua apice. Ed era impegnato a respingere le ondate di invasione da sud e da ove. La fortezza di Ostagar fu costruita specificatamente per vigilare sulle orde dei Chasing che si avventuravano a nord oltre la linea degli alberi. Solo dopo che il leggendario guerriero Hafter sconfisse i Chasing nella prima metà dell'era divina, fu chiusa la disputa sulla loro capacità di conquistare i bassopiani. Oggi i Chasing sono considerati per lo più pacifici, anche se i loro modi restano primitivi, se confrontati ai nostri. Vivo nelle selve corcare e all'interno di capanne dall'aspetto bizzarro, costruite su palafitte o persino sugli alberi. Si dipingono i volti e sono divisi in piccole tribù controllate da sciamani simili a quelli degli Avar. Molti racconti sostengono che questi sciamani abbiano appreso le loro abilità magiche dalle streghe delle selve, streghe che ispirano tanto terrore quanto rispetto e gratitudine. Anche se non ci sono prove definitive della loro esistenza, in particolare il racconto di Flemeth, la più celebre strega delle selve, è conosciuto in tutte le tribù. Anche se non c'è modo di sapere in quanti vivono nelle selve oggigiorno, alcuni viaggiatori che attraversano le foreste dicono di aver visto dei Chasing che cercano un'esistenza nelle Jade, terre desolate del sud. Si può supporre che se i Chasing decidessero di organizzarsi potremmo avere motivo di temerli qui nel Fered. Ignoriamo a nostro rischio e pericolo. Tratto dal Fered, folklore... Vabbè, quindi sì, avevo intuito giusto. Ma non posso dire... Barbaro... Barbaro... Contadino... Quindi sono... eh, una tribù praticamente. Ma chi? Lui? Questo Stan qui, forse? Sei un prigionino? Chi ti ha imprigionato? Sono in un caglio, non lo so? Sono stato posato qui dalla Chantra. Sono Sten di Beresad, la vanguardia dei comuni Kunari. Ah, ma quelli con le corna? Perché non ha le corna, Lumi? Io sono Terry, lieto di conoscerti. Si... Ma mi pare di ricordare che lui forse poteva esserle chiutato. Che cosa hai fatto per finire qui? No, non vuoi spiare per il tuo crimine chi è ucciso? Sei colpevole? Deve essere stato difficile catturarti? Da quant'è che sei qui? No, sei colpevole? Non mi sembrava una domanda difficile, comunque. Se ti senti colpevole per l'omicidio, perché... No, io volevo sapere se veramente aveva ucciso, comunque. Non vuoi spiare per il tuo crimine? Ci sono altri modi per redimerti. Potremmo. Che vuoi dire che la tua sabbia sia uguale al mio crimine? Beh, sì, potresti aiutarmi a combattere contro il fragello. Sto compiendo una missione di grande importanza. Potresti aiutarmi a combattere contro il fragello. La venerata madre ti libererebbe mai? Per ora ti lascerò stare. Nuovo codice. Stan, missione aggiornata. Il prigioniero Kunari. Trovo un modo per liberare Stan. È accettato di parlare con la venerata madre per cercare di far liberare Stan. Codice aggiornato. Colui che non sa cosa sia il rimorso ha una memoria invidiabile, una vita pietosa. Le isole settentrionali sono lontane. Giungle rigogliose in cui si regano città che, si dice, siano tra le più grandiose mai costruite. Queste sono le terre dei Kunari. Terre che nessun occhio straniero vedrà mai. Solo le storie delle tre sacre marce mosse contro i giganti hanno raggiunto il meridione. Fino all'arrivo di Stan. Lo stoico gigante nella Gambia è sicuramente la creatura più bizzarra mai vista dalla gente di Loteri. Finché non arrivò il fagello. Però non ha le corna. O c'è un motivo che non abbia le corna. O magari hanno scelto dopo di mettergliele. Pare che questi Kunari siano stati rimaneggiati più e più volte, credo. Comunque. La venerata madre mi sa che era nella chiesa. Eh sì. Ma io andrei in giro ancora appunto a esplorare senza uscire da questa mappa. E poi andiamo in chiesa. Sì. Qua. Rifugio di chi? Dennis. Dennis. Chi è? Chi è? Rifugiato. Minatore. Rifugiato servizievole. Chiacchierone. Qua sì. Rifugio di Dane. Minatore. Vediamo quelli servizi... Quegli servizi. Come mai la taverna è piena? Parlatemi di questi soldati. Mi sembrate infelici. Mi sembrate infelici. Is there any reason to be happy? With the king dead, them Darkspawn will overrun Lotharing before anyone can organize. You think those soldati could at least run off the bandits? I hear someone gave them what they deserved. Wasn't you, was it? La voce... La voce corre, la voce gira. Sì, sono stato io. It was? Hey, everyone. This is the one who drove out those thieving bastards. More will probably come, but it's good to know some justice is left here. Thank you. Figurati. Però non mi ha dato niente. Vabbè. Ok, sì, però come ho detto, io continuerei un attimo l'esplorazione di sto villaggio. Così magari raccattiamo qualche altra missione. E poi entrerei nelle varie aree. Così magari raccoglie un attimo l'esplorazione di sto villaggio.